ciao a tutti e benvenuti alla rubrica di Mary oggi parleremo di quando vi fate la doccia e non vi volete bagnare i capelli beh ma è capitato di andare a fare la doccia e solo quando siete dentro la doccia vi rendete conto che non avete la cuffia a me è successo qualora vi dovesse capitare ecco cosa fare consiglio numero uno prendete un reggiseno piegatelo come sto facendo io ripiegatelo verrà fuori un praticissimo elastico per capelli consiglio numero due non avete reggiseni nessun problema prendete due calzini da uomo che sicuramente avrete fate due nodi all'estremità verrà fuori una originalissima fascia per capelli consiglio numero tre in casa non avete né reggiseni né calzini semplicissimo mettetevi l'accappatoio alle ciabatte e chiedete aiuto al vicino per oggi è tutto spero di esservi stato d'aiuto alla prossima